Una delle problematiche maggiori dei pronto soccorsi fondamentalmente sono l'overcrowing, cioè l'iperafflusso e il boarding. Il boarding è quella situazione in cui i pazienti che hanno già finito il loro percorso e avrebbero già un indirizzo, una sistemazione, quindi bisogno di ricovero, purtroppo rimangono dentro il pronto soccorso per diverse ore e di questo se ne occupa appunto il bad management e le nostre bad manager. Monia, Marianne e Delisa sono tre infermiere con anni di esperienza in emergenza urgenza. Sono le bad manager in servizio all'ospedale San Donato di Arezzo. Il problema del sovraffollamento è diventato tema di attualità, quindi da parte delle organizzazioni sanitarie e dei vari presidi ospedalieri di istituire una figura che potesse traghettare e comunque diminuire quello che è l'iperafflusso in pronto soccorso, quindi lo stazionamento dei pazienti più a lungo per fluidificare tutti quei percorsi con il ricovero o altro. Le bad manager cercano posti letto nei vari reparti in cui collocare il paziente non affetto da emergenza sanitaria arrivato al pronto soccorso. La nostra giornata si sviluppa in un briefing che facciamo alle ore 8 con il pronto soccorso e obi e vediamo quanti pazienti sono in attesa di ricovero. Poi andiamo a fare il giro di tutti i reparti all'interno dell'ospedale. Vediamo i letti liberi e le presunte dimissioni. Perciò cerchiamo di fare, di stillare un numero per vedere se questo numero ci possa bastare per i ricoveri che vengono richiesti dal pronto soccorso e l'obi. Eventualmente se non ci fossero totalmente i letti disponibili per tutti i pazienti cerchiamo di occupare anche gli altri letti disponibili all'interno dell'ospedale tipo l'area chirurgica mettendoli in appoggio poi recuperarli nel setting giusto nel giro di pochi giorni. La figura è stata istituita con una delibera della regione toscana nel 2018 che demanda alle ASA, l'istituzione e la gestione operativa del bed management ad Arezzo è arrivata 5 anni fa. Questo è un lavoro di collaborazione, noi siamo un piccolo anello di una grande catena e tutti e tutti rimiamo nello stesso verso, il paziente prima di tutto.